Come sapete sono insegnante yoga, mi occupo di corsi di cucina, cucinolistica terapeutica naturale, tengo coaching dedicati alla nutrizione e al benessere delle persone. Ecco che quest'oggi voglio addentrarvi in un viaggio che incomincia oggi. Minuto prevalentemente di frutta e verdura, sulla mia tavola non mancano mai, scelta da produttori consapevoli, attenti al benessere dell'uomo e della terra. Negli anni ho compreso però che molte persone faticano a nutrirsi prevalentemente di grandi quantità di frutta e di verdura, un po' per scarso tempo, un po' per voglia o scarsa voglia e un po' perché molte persone arrivano con davvero delle difficoltà digestive importanti. Il tempo che necessitano per riabilitare il lavoro di gestione, il loro apparato digerente, spesso fa sì che siano carenti di alcune componenti fondamentali per il nostro benessere. Qualche anno fa incontrai Flavon Max, un'azienda inglese straordinaria, che ha ideato un modo nuovo, innovativo, per permettere alle persone di assumere il più possibile vitamine, sali minerali, flavonoidi, polifenoli, componenti necessari per la nostra salute, in un cucchiaino, ovvero in una marmellata o gel. Come? Questa frutta e verdura di alta qualità viene estratta a freddo con dei macchinari che nell'estrazione mantengono i componenti necessari al nostro benessere, ma soprattutto i componenti che quotidianamente noi avremmo bisogno di poter assumere con grandissime quantità di frutta e di verdura, che a volte sono impossibili a mangiarsi. 40 kg ad esempio di frutta o di verdura, non tutti riescono a fare una giornata, a vivere una giornata o più giorni a base semplicemente vegetale. Ecco che in un cucchiaino voi potete ritrovare i componenti essenziali di 20 kg di frutta o di verdura, a seconda del marattolo che scegliete. In particolare questo Flavon Protect è il mio preferito, lo adoro, perché vi sono tantissime bacche che sono difficili a trovarsi sul mercato e che davvero avrebbero anche un sapore poco gradevole. Invece ogni mattina Flavon Protect nutre il mio benessere. Vi faccio vedere una cosa. Questa è l'evoluzione dalla capsula, spesso non assimilata, al gel, alla marmellata. Inizieremo insieme questo viaggio con Flavon Max.